Buongiorno a tutti, ci mostriamo le prime immagini di Camarana alla Serenitana, che arriva in un testamento, è molto accanto con la Serenitana, che arrivano all'effetto di un bordo, e non lo vuole respirare a tanti tanti, sulle cavi di città e questo è un'altra parte di un bordo. Ciao, benvenuto. Prego, prego. Sei pronto per giocare? No, no. Pronto per giocare. Fisicamente o no? Un attimo, una foto.